E' tutto pronto per il debutto della stagione notte 2022-2023 del Teatro Sociale di Como. Si parte domani con la lirica e con l'attesa prima, in replica poi il 1 ottobre. Titolo scelto per questa apertura è il Don Giovanni di Mozart coprodotto dai teatri di opera Lombardia. Recite precedute come ogni anno dalla prima Giovanni Under 30 andata in scena ieri. La regia dell'opera è di Mario Martone, ripresa da Raffaele Di Florio sotto la direzione del maestro Riccardo Bisatti, giovane direttore classe 2000 che debutta nel circuito di opera Lombardia. Il Teatro Sociale di Como inaugura così la stagione notte dal titolo Natura Est Vita, titolo tratto dalla citazione di Plinio il Vecchio, scrittore, ammiraglio e naturalista, nato proprio a Como nel 23 d.C. e per il quale si celebrerà il bimillenario della nascita. La stagione della massima sala cittadina entra dunque a far parte delle celebrazioni. Sullo spunto di Plinio, il teatro prosegue nel suo percorso all'insegna della sostenibilità, e continua ad interrogarsi sulla natura e sull'attuale situazione globale. L'obiettivo è farsi portatore, procedendo nel percorso di sviluppo sostenibile, di messaggi di consapevolezza, un fil rouge che lega alcuni spettacoli della programmazione. L'obiettivo è farsi portatore,